L'intenzione principale era quella di differenziarci da un negozio di telefonia comune, creare un negozio che permettesse al cliente di trovare tutto quello di cui aveva bisogno in un unico posto. Dopo un primo incontro abbiamo concordato con Alex e Andrea di fare un breve percorso con un mentor di Ipermicrolab, Luca, il quale ha collaborato con i due ragazzi per stendere un business plan, per stirare un business plan il più preciso possibile su quella che sarebbe stata l'attività. Offriamo tutti i tipi di servizi per quanto riguarda l'assistenza, dal backup al trasferimento dati, alla configurazione del telefono, facciamo servizio di vendita come vendita sia del nuovo che dell'usato sia per quanto riguarda computer che tablet che smartphone, abbiamo tutta la gamma di accessori per la telefonia, in più abbiamo il servizio di cover personalizzata. Una volta terminato questo percorso ci siamo rincontrati e abbiamo iniziato a lavorare sulla loro richiesta di finanziare oltre ad alcune spese di avvio una pressa a caldo. Si tratta di un macchinario che consente di fare delle cover personalizzate. Avevamo secondo noi un'ottima idea, abbiamo cercato qualcuno che credesse nel nostro progetto e abbiamo trovato questa figura in per micro che ci ha supportato sin dal primo momento dallo sviluppo del business plan all'erogazione dei fondi per acquistare i vari macchinari utili alla nostra attività e per la ristrutturazione del negozio. L'intero ITER dal primo appuntamento all'erogazione del microcredito è durato all'incirca un mese. Faccio il tecnico riparatore nel senso che riparo gli smartphone e i tablet e mi occupo anche dei corsi di formazione. I corsi di formazione sono la parte più interessante e innovativa di SNAP, noi la chiamiamo alfabetizzazione digitale. Il signore più anziano è stato un signore di 93 anni che era preoccupatissimo di non saperlo utilizzare, di non riuscire a mandare sms, salvare messaggi e invece in mezz'oretta abbiamo fatto tutto quanto. Posso dire che SNAP Solutions si è rivelata un'azienda sana, forte ed in crescita e questo non fa che confermare quanto fosse buono il progetto iniziale e quanto abbiamo fatto la scelta giusta decidendo di investire in questa attività. Abbiamo scelto il nome SNAP perché in America SNAP è lo schiocco delle dita e noi siamo veloci come uno schiocco di dita.